Il Presidente del Consiglio si è incaricato di convocare per domani il cosiddetto comitatone, cioè il Comitato di indirizzi per la salvaguardia di Venezia, a secondo la legge speciale dell'84 addirittura. Sono tre anni che non si riuniva questo comitato, domani si riunisce, ha l'ordine del giorno salvaguardia e portualità e quindi io mi auguro avrà l'ordine del giorno anche il problema dell'off show di cui abbiamo detto qualche minuto fa e poi dovrà, secondo me spero, contribuire a risolvere questo problema che è molto semplice, nonostante tutte le discussioni. Abbiamo deciso tutti che è bene che le grandi navi passeggeri non passino davanti a San Marco. Dobbiamo farlo se possibile senza distruggere l'eccellenza croceristica veneziana, quindi bisogna fare in modo che non passino davanti a San Marco ma che raggiungano comunque la marittima, il porto che abbiamo costruito in dieci anni, che è il più bel porto croceristico del Mediterraneo. Bisogna farlo in modo tale che non si mettano, che il modo in cui si arriverà in marittima non crei delle difficoltà per il resto del porto, per l'attività delle merci e se per caso nella decisione che si prenderà si sceglierà di intervenire in laguna con un nuovo canale, lo si faccia utilizzando questa occasione per una ricostruzione morfologica della laguna a sud, cioè per ricostruire un bene ambientale che negli ultimi anni è stato piuttosto maltrattato.